Il modello di Gravedona era finito in nomination con lo chef Andrea Mainardi e il giornalista e conduttore Alessandro Cecchi Paone. Il pubblico ha deciso di fare uscire dalla casa Cecchi Paone e ha salvato così Sala e Mainardi. In una seconda eliminazione è poi stata esclusa la sciogherla e la Weber. Peraltro lo stesso Sala è stato al centro dell'attenzione, ancora una volta, per la sua relazione con l'altra inquilina Benedetta Mazza. Relazione che in molti giudicano più di una profonda amicizia, come entrambi l'hanno definita in passato. Al Comasco sono state mostrate anche dichiarazioni non molto concilianti di Dasha Kina, la sua fidanzata, che certo non gradisce la situazione che si è creata nella casa. Benedetta e Stefano hanno parlato di un affetto borderline e Ilariano ha spiegato non si tratta di amore e che chiarirà tutto con Dasha appena uscirà. Ma anche sui social tanti telespettatori non hanno nascosto i loro dubbi, al pari di quelli dei conduttori Ilari Blasi e Alfonso Signorini, punto le nuove nomination. Infine al confronto nel televoto andranno due icone degli anni 80, Ivan Cattaneo e Lori Del Santo.